Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sps.com.au barra italian o scaricate la SPS Radio App. Small Business Secrets, le storie delle piccole e grandi aziende italiane in Australia. Io sono Andrea Pagani, voi state all'ascolto di un podcast in italiano di SPS Acronimo, anche di una nostra rubrica, Small Business Secrets. La storia, le storie delle italiane e degli italiani che sono venuti qui in Australia e hanno fatto impresa. E un'impresa è quella che ha messo in piedi la nostra prossima ospite, che si autodefinisce una langhetta, ora ce lo descriverà, ci spiegherà il perché. Che si chiama Lara Murialdi. Intanto Lara, buongiorno e grazie per essere a SPS. Buongiorno Andrea, grazie per l'invito. Dunque, langhetta vuol dire? Io sono cresciuta nelle langhe, a 27 chilometri da Alba, in un paese che si chiama Vesime. E dunque in dialetto piemontese siamo dei langhetti. Langhe, terreno di grande cucina tradizionale, mi usciti due o tre piatti così a caso perché se lo faccio io sembra che sia di parte. Allora i plin, la bagna cauda, il tartufo bianco con la carne cruda, il bollito, i soffredi cardi. Tutta una roba leggerissima che chiudiamo con il dolce tipico che è? Bunette. Che bel bunette con? Cioccolato e amaretti. Ah, cioccolato e amaretti. Ah, vorrei suggerire un ultimo che è buonissimo, è la pesca ripiena. La pesca ripiena. Sempre con gli amaretti. Giusto, per pulire la bocca come si suol dire. Ci siamo scordati la finanziaria, un'altra delicatezza leggerissima. delle langhe, la leggerezza invece è una delle caratteristiche del prodotto che produce appunto. Lara, che cosa ti sei messa a fare? Sei messa a fare pasta fresca. Per il momento ravioli, il tuo business si chiama Impasta. Prima di addentrarci in questo mondo di ravioli, raccontaci un po' chi sei, quando sei arrivata in Australia. Allora io sono arrivata nel 2012 con mio marito e due piccoli bimbi, che adesso sono grandi logicamente, e dunque mio marito vendeva piastrella al redobagno. Inizialmente io ho fatto la mamma, ok? Però prima di partire per l'Australia feci un corso di sfoglina. Lo feci a Bologna perché mio marito è bolognese, proprio per il fatto, perché ho pensato, quando arrivo là non so se riesco a trovare quello di cui noi siamo abituati a mangiare e poi a me piace molto cucinare. Dunque ho iniziato per la mia famiglia a fare tortellini, ravioli, tagliatelle, lasagne, tutto quello che era... Poveracci questi anni, la famiglia costretti a mangiare, eh? Ad assaggiare. E dunque ho iniziato così, in casa per noi. Poi gli amici venivano a cena, a pranzo, ah ma che buoni, ah perché non me li fai, ah perché non me li vendi. Fin quando dopo il Covid, un po' con l'aiuto di un amico in Italia da Acquiterme, il quale ha tre pasta fresca, lui, è un caro amico, lo chiamai e gli ho detto sai cosa, io sto valutando di aprire un business di ravioli, perché in Australia non avevo trovato nessun tipo di raviolo che a noi piacesse, ecco, perciò tutta roba molto industriale e che non siamo abituati, ecco. Perciò chiamai questo amico, mi diede qualche indicazione, mi introdusse al mondo del pasta fresca e iniziai questo progetto. Ho iniziato con due tipi di ravioli, uno di carne, che è il raviolo piemontese, il ripieno, e un ricotta e spinaci. Il mio prodotto non ha conservanti e non ha colori alimentari, perché io in primi sono una mamma, perciò voglio, cerco comunque di dare del cibo fatto bene ai bambini, perché devono crescere anche per noi, ecco, ormai il mondo, cioè ormai il nostro cibo è tutto pieno di conservanti. E quindi stai andando nella direzione di sentirti un po' mamma anche dei tuoi clienti, ecco. E quindi come hai messo su questa cosa e come la stai svolgendo? Perché a microfoni spenti, insomma, mi parlavi di un fai da te, da la alla zeta. Allora, io affitto una cucina, logicamente, perché sono piccolina come una formica. Affitto una cucina, faccio i miei ravioli, faccio il ripieno io, faccio tutto io, faccio le delivery, faccio le vendite per il momento. E dunque ho una signora che mi viene a aiutare ogni tanto. Anche lei è diplomata sfollina? Lei è una signora, non è diplomata sfollina, ma guarda, lei è sicuramente una grande chef, anche se non è chef. E dunque faccio tutto io, proprio perché sono piccina, però la cosa principale che io credo è che bisogna cercare di mangiare bene, o comunque provarci, ecco. Perciò il mio prodotto viene fatto e viene surgelato in abbattitori, logicamente, in modo che, in primis, è senza, come dicevo prima, senza conservanti. Secondo, lo utilizzi bene o male quando vuoi tu, è logico. Io non posso dare delle expari, cioè una data di scadenza troppo lunga, proprio per il fatto perché non ha conservanti. Quindi compratelo e mangiatelo fondamentalmente. Sì, questo è il mio consiglio, però comunque uno lo prende, se non lo mangia subito, se lo mangia anche dopo 20 giorni, è buonissimo. Poi è facile da cucinare perché lo prendi e lo butti nell'acqua, non devi scongelarlo. Ecco, arriveremo a parlare di questo tra poco quando mi spiegherai, insomma, la campagna pubblicitaria per far capire al pubblico australiano che lo potete fare anche voi. La domanda, intanto ricordo a coloro all'ascolto che stiamo chiacchierando con Lara Murialdi, una langhetta che si è messa a fare la pasta fresca qui in Australia con il suo business in pasta. Ecco, parlavi del corso di sfolline, cosa ti ha dato secondo te, qual è stato, non dico il segreto altrimenti non lo sarebbe più, ma quell'elemento anche di autostima, cos'è che ti ha dato quel corso che ti ha fatto capire che puoi essere la mamma non solo dei tuoi figli ma anche dei tuoi clienti? Ma, allora, il corso mi ha sicuramente dato delle capacità che, comunque delle informazioni che io non avevo prima, ecco. Io sono completamente autodidatta. I miei test sono i miei familiari. Come stanno, per ora? Stanno tutti bene? Sono grandi e grossi, vivono bene. Io ho sempre detto, se piace a loro, essendo mio marito ha uno standard molto alto. È un miliano, mi hai detto. Esatto, è di Bologna e mia suocera diceva, adesso lo dico in italiano, perché io non sono bolognese, dunque non so il dialetto, però diceva, faccio prima fare una sfoglia che è una scoreggia. In casa di mio marito si faceva la sfoglia abitualmente col mattarello, dunque figurati il livello che devo affrontare ogni volta che faccio una cosa. La pressione. La pressione, ecco. non va mai bene niente, c'è troppo sale, c'è meno sale. Perciò... E come ti sei trovata in Australia anche per la reperibilità, insomma, delle materie prime? Perché a volte si sente anche altri tuoi colleghi o persone che lavorano sempre nel settore dell'alimentare dire che alcuni dicono che la qualità è eccellente, alcuni invece dicono sì, ma certe cose non si trovano come in Italia. Tu come ti sei trovata? Sì, esatto. Io mi sono trovata che dipende quello che tu devi fare, si intende, perché alcune cose si riescono a fare e si riescono a fare anche bene, altre no. Allora, parlando come prima, parlavamo prima del ripieno dei plin, quelli con cui io sono praticamente cresciuta, è un ripieno non facile da fare qua per il discorso anche del coniglio, perché non è facilmente reperibile, anche lo stesso pansotto genovese non è facile da fare per il discorso sempre delle erbe che si mettono nel pansotto. Ci sono cose che riesci a fare perfettamente, altre no, ma è normale, siamo in Australia, non siamo in Italia, ma anche in Italia, secondo me, fai fatica da nord a sud a fare le stesse cose. Ci sono due punti che volevo toccare. Il primo è che, gioco forza, essendo in Australia e quindi una popolazione abituata tanto ad andare nei supermercati, come d'altronde anche in Italia, come è stato l'ingresso nei primi supermercati, perché comunque sui tuoi social si vede in alcuni grandi posti di Melbourne dove si può trovare. E la seconda, poi te la chiederò dopo, ma intanto te la accenno, il test, usare tuo figlio come dimostrazione del fatto, se lo può fare lui lo potete fare anche voi. Primo, il contatto con i supermercati in Australia, come sta andando, come va? Ma allora, questi sono supermercati comunque magari gestiti da italo-australiani e dunque riescono a capire il prodotto, sono supermercati di livello un po' più alto della norma e allora riescono a introdurre bene il prodotto. Poi comunque la mia forza, devo dire, sono i testing, cioè nel senso il sabato quando faccio i testing dentro questi supermercati. Certe volte mi capita di incontrare delle signore italo-australiane che mi guardano e mi dicono, ah io li facevo, allora io gli dico, signora assaggi i miei, guardi sono buoni. E loro assaggiano un po', sono un pochino, non sono così sicure ecco, e poi quando li assaggiano mi dicono, ah ma questi sono buoni. E gli dico... C'è un po' quel gioco di sguardi come un film di Sergio Leone con la busta di Borricone mentre il raviolo entra in boi che poi si convincono che però rispetta i canoni. E poi per convincere invece sulla facilità di esecuzione, vera e propria, cioè dal sacchetto al piatto, che strategia hai usato? È successo che diversi australiani mi chiedevano, ah ma come faccio a cucinarli? E io glielo spiegavo, finché ho messo mio figlio l'anno scorso 14enne su Instagram, perché ho pensato, se vedono te che hai 14 anni, Dio santo, diranno siamo in grado anche noi adulti a cucinarli, ecco. Ho messo Michele, ma spero, guarda cosa voglio, io dico sempre seguitemi su Instagram, c'è mio figlio che li cucina e dunque è abbastanza facile. E quindi ora sei partita con una linea di due prodotti, quali sono state le difficoltà logistiche di fare impresa di un certo tipo come questa in Australia? Grandi difficoltà, devo dire la verità, perché è abbastanza facile aprire una società chiedere i permessi perché ci sono queste cucine sharing che ti permettono di andare a cucinare a ore e dunque questo è quello con cui ho iniziato, che ancora sto lavorando in queste cucine sharing, dunque è abbastanza facile. è logico, alcune volte ti devi portare le cose, dunque non è comodissimo. Però allo stesso momento ti permette di contenere i costi perché comunque affitti soltanto il giorno in cui lavori, quindi organizzi tutta la gestione degli ordini eccetera. E in quella cucina c'è anche l'abbattitore, quindi in realtà fai tutta la linea in una botta sola. Sei contenta per ora della scelta che hai fatto? Sì, sono contenta perché mi dà soddisfazione, perché devo dire, ripeto, ho avuto solo un complain, uno solo in circa due anni. Cosa dire? Era quello che... No, era un signore all'interno di un supermercato, ha assaggiato il prodotto e a lui non piaceva, mentre la figlia mi diceva ma qual è il tuo problema che sono buonissimi? È stato l'unico, però ci sta, va bene, non è che io... Ma l'ha motivato? No, ha detto solo che a lui non piaceva, probabilmente lui sa, amava la veggia mai, allora magari la prossima volta un ripieno al veggio mai. Non sarà un ripieno al veggio, ma cosa c'è nel futuro invece per ora? Abbiamo un... avremo per Natale un ripieno con dei funghi su cui sto lavorando e farò questo terzo prodotto. L'ultima domanda che ti faccio nel merito del business, vendere un prodotto di qualità, quindi come hai detto ovviamente a un prezzo superiore rispetto a quelli prodotti dalla grande industria, surgelato, nonostante il popolo australiano comunque la base dei clienti sia abituata a un prodotto surgelato, ha creato un ostacolo, cioè un prodotto che costa più degli altri, ma non è fresco. Allora, sì, ha creato per alcuni, per diverso un ostacolo, perché comunque il surgelato è visto alcune volte come un prodotto non di qualità, mentre invece con l'abbattitore io stessa surgelo i tortellini che faccio per mio figlio. Non li metto, li abbatto, perché l'abbattitore è una grandissima invenzione, rimangono tutti i sapori all'interno del prodotto. Dunque tu non vai assolutamente a intaccare il prodotto, anzi lo mantieni, mantieni tutto lì dentro e nel momento che lo cucini è come se l'avessi fatto il giorno prima. Questo però appunto magari non arriva. Sì, non arriva, di fatti io lo spiego questo, alcune volte lo devo spiegare quando faccio i testi, perché una signora un giorno mi ha detto a me piacciono i ravioli freschi e io gli ho spiegato, guardi che questi sono fatti e abbattuti, dunque, cioè è logico che, allora io dico, è logico che se ci fossero dei negozi di qualità, di pasta fresca, probabilmente uno va nel negozio e compra il prodotto fatto ieri o oggi, perché un ricotta e spinaci ti può tenere due giorni, tre giorni, poi alla fine lo devi buttare via. In Italia i negozi di pasta fresca fanno il prodotto, quello che non è venduto lo surgelano, logicamente, lo danno ai ristoranti e allora c'è un giro, però se tu entro due tre giorni non vendi il prodotto, la ricotta ti va male, cioè, dunque... Le mamme sono il tuo target principale di pubblico o anche i ristoranti? No, io vendo principalmente al pubblico, cioè tramite i supermercati, perché ho voluto dare la possibilità di avere un prodotto di qualità a casa, perché qua in Australia, secondo il mio punto di vista, è difficile trovare un raviolo, un raviolo fatto bene a casa. O lo mangi al ristorante, che ci sono dei ristoranti eccellenti dove ci sono i cuochi che lo fanno loro, oppure ti devi buttare su un prodotto industriale. Il mio prodotto è quello che non c'è sul mercato. Nel mezzo. Esatto. E quindi, l'ultimissima domanda che volevo farti, perdonami, è chi come te si trovasse in una situazione che vuole aprire un business in Australia, vuole fare impresa, quale consiglio ti sentiresti dei danni? Il consiglio è di farlo. L'importante è crederci, come in tutte le cose. All'inizio non è facile, perché noi, facendo esempio sul mio business, noi in Italia mangiamo, soprattutto nella mia regione, nella regione dell'Emilia-Romagna, mangiamo pasta ripiena abitualmente. Tu devi capire che in questo paese ci sono tantissime etnie. Dunque, devi capire dove ti devi posizionare. Se tu capisci dove ti vuoi posizionare, tu, all'inizio sarà sicuramente non facile, perché devi faticare, alla fine è così, la vita è così, devi sempre faticare, qualsiasi cosa tu faccia. Però sono sicura che avrai risultati. E quindi, sangue langarolo, però, professionalità acquisita da sfollina, è arrivata qui in Australia e ha fatto in pasta questo business dove si fa pasta fresca, poi surgelata, abbattuta e venduta al dettaglio per un pubblico di mamme, mamma come Lara Murialdi, che intanto ringraziamo per essere stata con noi. Buona giornata, grazie. Grazie a te, grazie, arrivederci a tutti. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.